Dopo l'incendio che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Via Salari a Roma, a Natale si rischia il caos. Per evitare l'emergenza rifiuti, la Regione ha chiesto ad Ama di attivare il tanto discusso trito vagliatore mobile di Ostia Antica. L'impianto può lavorare fino a 150 tonnellate di immondizie al giorno. Anche se per il momento si tratta solamente di un'ipotesi, ha già suscitato dubbi e perplessità. Altro che Ostia Antica, patrimonio unesco, polemizza la capogruppo di Forza Italia del decimo municipio Maria Cristina Masi. Sulla via Ostiense, già fortemente congestionata dal traffico, arriveranno camion di rifiuti da smaltire. Avevamo contestato la scelta strategica di porre un impianto a pochi passi da una zona di altissimo pregio storico e artistico e la Giunta si era impegnata ad utilizzarlo solo in periodi brevi di emergenza relativa al territorio. Adesso siamo forse diventati la pattumiera di Roma? La presidente Giuliana Di Pillo, conclude Masi, deve chiarire immediatamente questa situazione in aula.